Un caro amico, un grande professionista in quello che è la bellezza del capello, Antonio Lauria Air Fashion, ma non solo perché adesso c'è una novità nel tuo salone di bellezza. Sì, nel nostro salone ci stiamo specializzando in quello che sono i trattamenti corpo, viso e chiamiamone anche i trattamenti miracolo perché riusciamo in poche sedute a dar soddisfazione alla cliente su dei risultati molto importanti sul viso, trattamenti anti-age. Diciamo che questi trattamenti è molto più acculturata, è molto più capace, li conosce molto di più Sabrina che è la mia socia. Cara Sabrina, ma con te voglio parlare di altro perché mentre il fanciullo fino ad oggi ha goduto nel salone della presenza di belle donne, finalmente nel vostro salone trattate anche i maschietti. Assolutamente sì. Sei felice? E come no, certo. Assolutamente sì, ma qual è la particolarità? Vabbè, la particolarità è che l'uomo oggi rispetto a prima ha più cura di se stesso e comunque ci tiene molto all'aspetto, alla cura della propria persona. Oltre ai capelli noi offriamo appunto dei trattamenti, viso, corpo, massaggi e anche trattamenti. Tutto questo ai maschietti? Anche, certo. Devo venervi a trovare? Assolutamente sì. E a proposito, per chi vi vuole venire a trovare, Antonio, vi troviamo? Allora, io ho diversi punti vendita. Abbiamo il negozio Immagine, il negozio Piloto, dove si trova dalla Barberia alla Spa, al parrucchiere da donna, a Rozzano, in Viale Lombardia. E poi abbiamo altri punti vendita a San Giuliano Milanese, sia maschile che femminile, nel centro commerciale Carrefour. Lì si ha la possibilità di ritrovare quello che è l'ambiente vintage della barberia italiana. E quello che è molto importante non è solo fare i parrucchieri, ma prendersi cura e vivere personalmente delle emozioni che ti portano al cambiamento, al rinnovo del proprio look. Perché per me il mio mestiere è sempre stata una passione, non un lavoro. Tant'è vero che l'anno prossimo parteciperò a un campionato mondiale, Airstyle and the World, dove io ho avuto, chiamiamo la fortuna o le capacità, di essere uno dei dieci partecipanti a livello mondiale per l'Italia. Grazie Antonio. Sabrina, un consiglio da dare alle femminucce, ma anche ai maschietti per quest'estate che oramai è imminente. Allora, sicuramente alle femminucce consiglio sempre di non ricordarsi all'ultimo momento della prova costume o quant'altro. La donna va curata tutto l'anno, la donna deve investire... 360, non dite la mia moglie, non dite la mia moglie! Caro mio, sono soldi investiti sulla persona, a parte su tua moglie, ma anche per te stesso. Fidati e poi la donna va gratificata. La donna quando esce da un salone di bellezza si sente gratificata, perché è giusto che sia così. La donna ha bisogno di sentirsi appagata anche in piccoli rituali di bellezza. Noi vi ringraziamo, auguriamo a voi una buona estate, un buon summer party e a più tardi con altre immagini.